Allora, Lillo, protagonista con dei fantastici ragazzi dell'Accademia del Sistina di School of Rock, ma innanzitutto dici, hai imparato più tu da loro o loro da te? Fino ad adesso, ad oggi ho imparato più io da loro, ad oggi, e poi magari quando saremo nel pieno delle prove, magari qualche cosa di esperienza mia personale legata al teatro, così magari posso trasferirla, ma fino ad adesso ho imparato solo io da loro. Senti, questo professore che porta questa ventata di rock in questa scuola molto ligia, insomma, al classicismo, quanto ti rispecchi in questo ruolo e anche in quello che fu Jack Black? Ma io non lo so, guarda, dal punto di vista del mio modo di fare spettacolo, il mio modo di approcciare quello spettacolo, io ho delle similitudini con Jack Black sicuramente, perché lui ha una grande fisicità che anch'io penso di avere. Diciamo che, così come Jack Black, ho scelto un tipo di lavoro legato alla comicità, legato alla recitazione, in cui la fisicità ha molto a che fare, che è il muoversi in un certo modo, il ballare, e l'essere anche così maturi, io lo sono naturalmente, quindi è un comico che amo tanto, che apprezzo tanto e che guardo tanto da spettatore, quindi da spettatore sono sicuro di aver metabolizzato alcune cose di lui, così come l'ho fatto con John Melucci, per esempio, che è un altro comico molto fisico che io ho amato tanto. Secondo me è importante, per chi fa il mio mestiere, metabolizzare quello che ami da spettatore, semplicemente, per poi anche inconsciamente trasferirlo in quello che fai, quindi forse in quel senso è stata una scelta azzeccata, insomma, scegliere me, perché sono veramente naturalmente uno spettatore e un amante di un certo tipo di comicità, che è quello con cui ha a che fare Jack Black, anche se il musical poi è veramente un musical, bisogna cantare, bisogna, insomma, è molto diverso dal film, è più impegnativo, ecco, ci sto provando, vediamo, speriamo bene. Uno sforzo anche notevole, insomma, da parte tua, come si è trovato con questi ragazzi, soprattutto che cosa ti ha stupito? Qual è la cosa che più ti ha sorpreso, che non ti aspettavi, insomma, nel momento in cui si è installato questo rapporto con i ragazzi? Non mi aspettavo questa loro predisposizione ad amare in così breve tempo la musica rock, molti di loro non la conoscevano affatto, perché adesso non si ascolta più, e hanno ascoltato, credo, dei grandi classici, appunto, dai Deep Purple, i Led Zeppelin, i CDC, insomma, sono impazziti, praticamente adesso ascoltano solo questa musica, quindi vuol dire che questa musica ha ancora una grande potenza, è ancora forte, basta solo ascoltarla, conoscerla, quindi appunto, dico a tutti i genitori amanti di questi artisti, di farli ascoltare i propri figli. Ma invece quali sono i tuoi gruppi preferiti? Sono questi, io amo questi gruppi qua, il mio gruppo preferito in assoluto sono gli CDC, perché amo la loro grinta e la loro carica energetica, poi mi piacciono veramente tantissimi, io ho una discografia abbastanza vasta che va da Deep Purple, a Evin Floyd, ai Led Zeppelin, ai Genesis, ai Queen, cioè tutto ciò che fa parte di quell'epoca rock importantissima, che secondo me ancora oggi dice la sua. Questo è uno spettacolo dove alla fine sono gli adulti ad imparare dai bambini, quando di solito è il contrario. Secondo te c'è veramente da imparare dai ragazzi, soprattutto per chi è di un'altra generazione e quindi magari spesso si tendano a sforzarsi di capire le novità, di capire un po' come quando eravate giovani voi e i vostri genitori non capivano il rock? Ma guarda, lo sforzo intelligente che fanno certi genitori secondo me è quello di dire ok, come ero io quando alla loro età? Questa è una domanda che se ti fai questa domanda è fatta, riesci a educarli secondo me lasciando anche quello spazio, quella libertà fondamentale, perché siccome ce lo scordiamo quello che siamo stati noi da ragazzini, allora diventiamo degli adulti che pensano di avere la verità assoluta e quindi la loro verità è quella assoluta da adulto. Basta farsi questa domanda, è una semplice domanda che bisogna farsi, come ero io all'età loro? Se ti fai questa domanda diventa tutto più facile. Beh, dal primo marzo, eccolo qua, School of Rock, uno spettacolo, credo, da come ci stiamo divertendo nell'allestirlo, molto divertente, con delle musiche stupende, con dei ragazzi meravigliosi in scena, credo che sarà un bello spettacolo. Grazie. Grazie. Grazie.